buongiorno a tutti oggi faccio solo un minuto di presentazione guardate questo esposimetro si chiama Zeiss Icofot-T di Torino Icofot-T questo nasce il primo esposimetro fatto da Zeiss senza garbanometro cioè utilizza cds transistor cioè circuito transistor e con cellula cds e quindi esposizione e viene misurato correttamente abbastanza insolito questo esposimetro ci sono anche versione bianca versione anche trasparente oppure e c'è scritto Carl Zeiss, Zeiss, Vogtelender o cioè no ci sono un po di varianti questo però vi confesso è che mi affascina questo esposimetro cioè tra l'altro questo l'ho comprato da Nudo Camera bene allora come funziona funziona allora qua sono anche le alette ok questa è luce riflessa oppure luce incidente e quindi facilmente mettiamo questo diffusore davanti cioè luce che arriva a qua cioè quale luce arriva e viene messo cioè la batteria 9 volts ok allora qua c'è la sensibilità da mettere da 6 iso a 3200 iso quindi prima cambiamo mettiamo adesso 100 iso adesso ho messo 100 iso ok misurazione luce che sta arrivando cioè io sto fotografando me cioè no giordano che mi sta fotografando cioè luce che sta arrivando qua quanto è vediamo faccio vedere così è spingendo questo bottone rosso si accende questa lucina poi giriamo allora ho girato troppo cioè vai indietro dice quando è luce corretta cioè esposizione corretta si accende parte centrale mamma mia cioè una bellezza impressionante perché così è leggibile anche di notte ok qua cosa dice a 100 iso a 5 e 6 di diaframma dice un quarto di secondo ok e cioè è bellissima misrare la luce allora voi avete anche possibilità di scaricare applicazione su cellulare no cioè perché il telefono telefonino ha anche esposimetro e quindi potete anche scaricare facilmente però fatelo fatelo perché avere esposimetro fare misrazione della luce e una sensibilizzazione e per poter vedere la diciamo le luci che stanno arrivando sta arrivando perché senza luce non si fa le fotografie ok dove c'è la luce si può fare la fotografia ok e quindi questa sensibilizzazione no della consapevolezza di vedere quale luce c'è dove stai fotografando e aumenta la gioia di fotografare aumenta la gioia anche di comporre la fotografia aumenta la gioia anche di esprimere il sentimento perché se non arriva luce perché se non arriva luce negli tuoi occhi tu non vedi tu non vedi ok bene e quindi fatelo misrare la luce e come anche cioè fotografare cioè come anche io amo binocolo cioè osservare col binocolo osservare binocolo è un'altra cosa che dà tanta gioia e quindi osservare misrare avere più consapevolezza di ciò che stiamo vedendo è una cosa bellissima fatelo per cortesia e perché aumenta non perché fare le foto più belle no e aumentare la gioia di fare la fotografia aumentare la gioia di scrivere il tuo sentimento nella fotografia bene ci vediamo presto ciao ciao